Perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere di Luigi Delbello, l'ottantenne accusato di aver ucciso la moglie Emilia Tortella, di 74 anni, con 10 coltellate il 21 luglio dello scorso anno a Guastamerole, in provincia di Chieti. Oggi il giudice per l'udienza preliminare di Lanciano, Massimo Canosa, in sede di incidente probatorio, ha affidato a Danilo Montinaro, psichiatra dell'ospedale Renzetti di Lanciano, la perizia richiesta dal difensore di Delbello. L'avvocato Sandro Sala ha posto i quesiti per la valutazione della capacità di intendere e di volere dell'assistito, sia al momento del fatto, sia in relazione alla capacità di presenziare al processo. Il GIP ha fissato al 16 aprile prossimo la data di riconsegna della perizia Delbello e agli arresti domiciliari dal 18 dicembre scorso presso una residenza per anziani. Ho perplessità sulla ricostruzione del delitto da parte degli inquirenti, ha detto l'avvocato Sala, in considerazione del fatto che il mio assistito continua a dichiararsi innocente.